Buongiorno, sono lieto di portare il saluto mio personale del Dipartimento di Psicologia e del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive a tutti voi. Vi ringrazio per essere qui con noi oggi in questo convegno organizzato con entusiasmo e impegno dal Comitato Organizzativo Solido. Ringrazio ciascuno dei partecipanti al Comitato Organizzativo, ma permettetemi di dare un grazie speciale al collega Dario Fortin che con entusiasmo ha portato avanti questo impegno. Social Health Education and Training è un tema particolarmente impegnativo anche per i potenziali risvolti a livello politico, a livello sociale, a livello individuale e devo dire che mi piace molto la potenziale ambiguità di questo titolo. Education and Training per per i professionisti della salute e del sociale, visti in stretta interconnessione e quindi formazione e acquisizione di competenze professionali da parte di coloro che andranno a operare come professionisti sul territorio in ambito lavorativo. Ma questo titolo lascia anche così intravedere la possibilità che ciascuno di noi sia impegnato in una formazione e in un training rispetto alla Social Health. ovvero sia ciascuno di noi deve farsi carico di forme di vita, di forme di agire all'interno del mondo per l'appunto in questa prospettiva tale per cui l'aspetto sanitario e quello sociale si integrino ed interagiscano. non voglio togliere troppo tempo alle relazioni. Grazie. Vorrei solo dire che noi qui ospitiamo il corso di laurea in educazione professionale. È un corso di laurea che è stato attivato in collaborazione con l'Università di Ferrara, la scuola di medicina dell'Università di Ferrara. È un corso a numero programmato e devo dire che ci dà moltissima soddisfazione. Siamo veramente felici di questo corso. Ovviamente tutto è migliorabile, ma ci piace l'impegno degli studenti, il ruolo attivo che hanno. Ci piace la configurazione che è stata data al corso che prevede 60 crediti di tirocinio, quindi un anno di tirocinio su tre, spalmato in tre anni e quindi fin dal primo anno abbiamo dei momenti di tirocinio all'interno di un'istituzione sanitaria oppure di un'istituzione sociale. Questa familiarità, questo metterle mani in pasta con la pratica professionale colora anche il tipo di acquisizione teorica, di apprendimento degli aspetti teorici che sono particolarmente rilevanti. Ringrazio davvero tutti gli operatori, i docenti, i supervisori di tirocinio, i nostri tutor che hanno strutturato un percorso particolarmente importante e ovviamente ringrazio gli studenti per la passione con la quale vivono questa loro avventura. Rinnovo il mio benvenuto, il mio ringraziamento a voi. Spero e sono sicuro che queste giornate saranno intense, ricche, produttive e che ciascuno di voi potrà tornare alle proprie sedi con pensieri, momenti di riflessioni, spunti per una riflessione più ampia su questo particolare tema. Grazie. Grazie al direttore Remo Iob. Adesso la parola all'autoressa Violetta Ploteger, in rappresentanza della provincia autonoma di Trento, in quanto consigliere responsabile della quarta commissione permanente sulle politiche sociali e sanitarie e assessora regionale alla Previdenza. Grazie. Buongiorno a tutti di cuore anche da parte mia. Vi porto naturalmente anzitutto il saluto della Giunta Provinciale, in particolare dell'assessora Ferrari che è intrattenuta da un altro impegno istituzionale e quindi mi ha pregato di essere stamattina qui con voi a testimoniare la convinzione forte che ha la nostra amministrazione provinciale nel sostenere questa alleanza, questo percorso importantissimo dell'Università di Trento e in particolare appunto di questa realtà di interesse relativo appunto allo sviluppo di una educazione alla professionalità a una delle professioni tra le più strategiche, se noi vogliamo guardare al futuro anche delle nostre politiche sociali e sanitarie, a mio avviso in un modo più democratico e convinto. Perdonatemi, io sono anche molto emozionata perché sento in questo impegno che voi tutti dimostrate, anzitutto nell'avere sostenuto e organizzato questo percorso universitario e tutti i precedenti anche buoni successi e risultati formativi, poi per essere arrivati qui a questo convegno di carattere internazionale per sottolineare, rilanciare e sostenere la necessità di anche un accompagnamento scientifico a qualcosa che in realtà nasce dalla profondità, dalla profonda convinzione che di uno sviluppo umano, anzitutto noi oggi abbiamo bisogno. Intendo con questo dire che di fronte alle crisi che noi affrontiamo e che sono, come possiamo comprendere, di varia natura, sono crisi di fiducia, sono crisi di prospettiva, sono crisi anche economiche sicuramente, ma c'è una crisi più profonda ed è quella legata alla capacità, alla competenza dal punto di vista umano della mettersi in relazione per sostenerci reciprocamente nella valorizzazione di una vita piena per ciascuno. Il compito della politica a mio avviso è quello di, come dice l'articolo 3 della nostra Costituzione, rimuovere gli ostacoli per il pieno sviluppo della persona umana e quindi ci dobbiamo interrogare che cosa intendiamo per pieno sviluppo della persona umana e quali sono gli strumenti per poter rimuovere gli ostacoli. Allora io credo che l'educazione in sé, in generale, come modalità e approccio alla relazione con l'altro sia una dimensione molto più strategica, se riesco a esprimere questo concetto della informazione o dell'apprendimento o del raggiungere risultati ancorché importanti accademici o scientifici. Perché l'educazione è fondamentalmente la capacità di costruire persone in grado di essere autonome nelle proprie scelte e riuscire davvero ad avere un senso profondo della vita, amando se stesse e gli altri. La profondità dell'educazione va lì in quella direzione. Quando si tratta di intervenire su rimuovere gli ostacoli, indubbiamente pensiamo a chi è più fragile, a chi vive condizioni più difficili dentro la nostra comunità e qualche volta parliamo del valore assoluto della persona, come se fosse una cosa da dimostrare scientificamente. Perdonatemi, ma è un po' come essere convinti che esista la forza di gravità. Allora il valore della persona c'è e dove lo sentiamo con la razionalità io credo che altre siano le competenze. Sono dimensioni molto più profonde nelle quali, come prima appunto si diceva, ciascuno di noi è impegnato a crescere e quindi a educarsi per educare il percorso, l'itinerario che gli studenti di questa bellissima insomma professione che ripeto è strategica proprio per le politiche sociali e le politiche sanitarie che vogliano sviluppare un senso di comunità e di reale alla democrazia a mio avviso. Quindi le cose importanti che ciascuno di noi può mettere in campo riguardano anzitutto la dimensione non tanto e non solo di intraprendere le capacità educative nei confronti degli altri, ma il lavorare molto alla educazione di sé, perché solo attraverso un profondo apprendimento di questa competenza, a lavorare profondamente su di sé, noi riusciamo appunto a comprendere come approcciarci agli altri. Io appunto vi prego di scusarmi anche rispetto alla, magari questo mio saluto un po' inusuale, ma sottolineo questa convinzione per me è profondissima, solo uno sviluppo umano di profonde capacità di interazione, di relazione, di atteggiamento reale di rispetto e di, come dire, promozione dell'altro, ma perché se ne è compreso naturalmente in una dimensione di crescita personale il valore e la bellezza nell'incontro. Riuscirà appunto a aiutarci a crescere al di là delle paure e delle sfiduce che oggi stiamo tutti vivendo. Volevo quindi anzitutto augurarvi, ringraziarvi di essere qua, di questo momento, soprattutto chi ci ha raggiunto da lontano con la sua competenza e le sue capacità, sostenere anche attraverso la provincia questo percorso e il suo sviluppo, augurarvi un buon lavoro, una buona crescita e un futuro importante a questa realtà. Grazie e buon lavoro. Grazie davvero. Abbiamo sentito un saluto istituzionale particolarmente centrato rispetto al chi siamo e al dove vogliamo andare. Quindi grazie davvero alla dottoressa Ploteger che tradisce un pochino anche le sue competenze perché prima di diventare consigliere provinciale e assessora regionale è stata assessora comunale del Comune di Trento alle politiche sociali, quindi giochiamo in casa, insomma. Grazie. Ora finiamo la parte dei saluti istituzionali con un saluto speciale da parte del Presidente mondiale degli educatori professionali, Benny Anderson, che da un anno aveva messo in agenda questo incontro, ma è stato mannaggia trattenuto a Copenaghen per un impegno molto importante perché lui è Presidente anche dell'Associazione Sindacato degli Educatori perché lì in Danimarca esiste addirittura il sindacato degli educatori e degli insegnanti insieme e oggi aveva la trattativa finale del contratto. Diceva proprio l'ultimo giorno se manca il Presidente non si chiude la trattativa e quindi con dispiacere ha dovuto rinunciare, però ci ha mandato un saluto, un videomessaggio per tutti noi. Ciao a tutti, ora sto in Copenaghen, pensando di partecipare in questa importante conferenza di social health education and training. On behalf of ID, the International Association of Social Educators, I send you regards, not only from this northern part of the world, but from all the world regions where ID is present, by region officers and member organizations. And I wish you two very interesting days in Overeto. I hope that you will succeed in giving life to the comparison among research activities carried out in different countries and that new knowledge and perspectives will appear and strengthen the field of social health education and training. A lot of very competent people is a part of this field and they range from teachers, professional educators, researchers, students and also volunteers. All of you in Overeto right now will contribute with different angles, tasks and probably also different views. And I must say that these two days it looks promising from where I stand. Therefore I am also happy that this conference now is a reality. In this spirit I welcome all of you participants, educators, teachers, researchers, students and organization staff. And I wish for you that you tomorrow when the conference is over, return to your daily work a little bit wiser on social health education and training and that you will spread new knowledge to colleagues in your field. I want to thank the University of Trento being host and organizers of the conference and I thank the Scientific Committee for the job they have done. I also thank the Autonomous Province of Trento and ANEP, Associatione Nationale Educatora Professionale, being a part of the arrangement and I am sorry for my not very fluent Italian. As some of you know, ANEP is a member of ID, the International Organization of Social Educators that I represent. ID was founded in 1949 and for many years the focus for the organization was social educational work with children and young people. But the field has grown and for years we have also been occupied with adults. For every congress period, that means for years, the Board of ID decides to work with certain issues. In this period, 2013 to 2017, our focus is social educational work with separated refugee minors and social educational work with persons with mental disorders. The work with every issue ends up as a publication being translated to different languages and spread out through ID's network. An example is our work with refugee minors. We have interviewed minors and social educators living in Italy, in Spain, in Israel and Denmark. And the empirical studies is now being processed and theories are incorporated as well as the UN Convention and former ID publications. A part result of the project was presented at a seminar in Rome in September 2014 organized by ANEP. In June this year, the final publication will be represented at a seminar in Sao Paulo, Brazil. And talking about Sao Paulo, I would like to announce that the next World ID Congress will be held in this city. The World Congress takes place in June 2017 and I invite all social educators to take part in this event. At our next ID Board meeting in Portugal in a few months, we will agree about further steps for the World Congress and you are more than welcome to read the information being published on the ID website. Well, I finished my video greeting now, wishing all of you two very exciting conference days. For me, it's a pity that I'm not able to be present, but I will look forward to hear about the conference when completed. I wish you all the best and send you my greeting from Copenhagen and as some of you have heard me say before to social educators around the world. Every morning when you are awake, look into your mirror and say with a smile, yes, we have the finest job in the world. Our job is the most noble in the world. Bye. 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 oggi l'Associazione Nazionale e che interverrà alla plenaria di chiusura di domani. La ringrazio, ringrazio l'Associazione Nazionale di Educatori Professionali subito in anticipo in quanto partner importante di questo nostro progetto di ricerca azione. Ringrazio Remo Iob che è tornato a cercare di dirigere questo Dipartimento e naturalmente Violetta Ploteger che ho capito che forse riesce a fermarsi un pochino. Puoi anche rimanere qui. Ah no, giusto, facciamo salire Alberto Zucconi perché abbiamo bisogno... Benissimo, grazie Violetta. Alberto se vuoi accomodarti qui da noi. Devo, come dire, dire due parole di introduzione a questo momento, a questo evento. Prego, accomodatevi. Per chi deve, è iscritto come CM, i posti riservati sono qui davanti. Quindi prima fila. Chi ancora non aveva capito c'erano i cartelli sulle sedie. Benvenuti. C'è un sistema austro-ungarico di controllo riguardo i crediti. Quindi attenzione. Allora due informazioni introduttive da parte mia in quanto po' responsabile del Comitato Scientifico di questa ricercazione. Un anno fa, proprio in questi giorni, sempre con il saluto della neve, ci siamo trovati al primo convegno nazionale organizzato da un'università italiana sul tema dell'educazione professionale e della formazione e della ricerca in educazione professionale. A questo primo evento molti di voi, e questa è una cosa molto importante, erano presenti. Abbiamo dovuto affittare il Teatro Rosmini perché non ci aspettavamo una risposta del genere. 300 persone provenienti da molte regioni italiane, una platea composta da educatori, professionali, studenti, ricercatori, docenti, partner istituzionali del progetto di ricerca. E a un anno da questo evento abbiamo pensato di organizzare un evento internazionale perché all'interno di questo progetto di ricercazione ci sembrava importante facilitare un rapporto tra le esperienze italiane e quelle di altri paesi. Purtroppo la ricerca italiana universitaria nel campo dell'educazione professionale sta muovendo i primi passi, è un po' in ritardo rispetto ad altri settori e con questo convegno vuole iniziare a aprire un dialogo con il resto del mondo, in particolare con il resto d'Europa per quanto riguarda queste due giornate. anche se dobbiamo riconoscere che la prassi, l'expertise, il mondo delle esperienze sociosanitarie e di educazione professionale in Italia è molto vasto, è diffuso in tutti i settori di intervento, in tutte le regioni italiane e con il tentativo e l'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali delle persone in difficoltà sociali e sanitarie di ogni età e di ogni genere. diritti di educazione, di salute, di sussistenza, istruzione, inclusione sociale, cultura, formazione professionale, lavoro i diritti che sono stati poi richiamati che partono dall'articolo 3 della Costituzione italiana. solo che questi obiettivi, abbiamo sentito anche dall'assessore Plotterger, sono sempre più difficili e lontani da raggiungere e non solo in Italia evidentemente. Sentiremo anche negli interventi dei nostri speaker di questa mattina uno sguardo internazionale. questi fattori di globalizzazione economica e finanziaria hanno di fatto aumentato le disuguaglianze in tutto il mondo. Eppure in Italia i dati ci attestano un numero davvero rilevante di persone impegnate quotidianamente nelle relazioni di aiuto nel mondo del sociale, del sanitario e delle solidarietà. 5 milioni di volontari, tutta la popolazione della Danimarca, il paese da dove proviene il nostro presidente dell'Associazione Mondiale. 25 mila educatori professionali, 40 mila assistenti sociali, 37 mila psicoterapeuti. Il solo settore non profit conta un milione di persone impegnate in Italia. Tra formatori, educatori, psicologi, operatori, animatori, tecnici, amministrativi, religiosi e ragazzi del servizio civile. Un milione. Eppure pare che le politiche nazionali negli ultimi vent'anni non si siano accorte di tutto questo, di quello che stava accadendo in Italia. E effettivamente questo movimento ha fatto molta fatica a andare avanti. E dove è stato possibile ed è successo che si è creato sviluppo e innovazione anche all'interno di questo settore, effettivamente le fatiche sono state molto, molto importanti. Quindi la sfida è stata molto importante in questi vent'anni. Purtroppo nell'agenda delle politiche nazionali le priorità sono sempre state altre. Quindi ricerca, formazione, sviluppo nei temi dell'educazione si sono realizzate quindi in condizioni di affanno, veramente. E quindi inoltre l'impossibilità a programmare in modo pluriennale, con una cadenza pluriennale. Pensiamo solo alla questione del servizio civile. Questi progetti che scadono ogni anno, che ogni anno bisogna ricominciare e tutto il sistema del finanziamenti a progetto. Quanta precarietà, quanta difficoltà. Sto dicendo delle cose che conoscete molto bene, ma le sto solo ricordando. Quindi una palude fatta di incomprensioni, di ostacoli legislativi, promesse non mantenute, disinteresse della politica. E sono solo 14 i corsi di laurea in educazione professionale in Italia. E purtroppo, come si diceva prima, l'investimento in ricerca è quasi nullo da parte delle università italiane. La situazione trentina, da dove siamo, è una situazione probabilmente apripista per una particolare attenzione che forse dobbiamo riconoscere sicuramente alla provincia di Trento, in questo settore, e all'università trentina. Quindi siamo, da un punto di vista, siamo stati sicuramente favoriti. E ci auguriamo che questa attenzione da parte delle istituzioni continui, anche se non lo possiamo dare mai, per scontato, neanche qui in Trentino. Questo convegno, dicevamo, si è dato questo compito, cioè di iniziare a mettere a confronto le realtà. E' interessante questo fatto che 55 presentazioni di lavori di ricerca saranno presentate quindi in questi due giorni. 29 papers, 13 workshops e 13 poster per un'ottantina di autori coinvolti nel lavoro di sperimentazione, di ricerca, di rielaborazione ed oggi di presentazione a colleghi esperti per un confronto, appunto per un confronto comune. I contenuti principali dei lavori che andremo ad ascoltare, a partecipare in queste due giornate, nei workshop, nei papers e nei posters, sono di due grandi famiglie. Abbiamo visto ricerche e buone pratiche in formazione universitaria, in training, 13 contributi di formazione, di ricerca rispetto alla formazione dentro all'università e 13 contributi rispetto alla formazione fuori dall'università in educazione professionale. Poi 29 invece, nell'altro argomento, che sono proprio ricerche sugli interventi educativi, quindi ricerche sulla formazione e ricerche sugli interventi. Le ricerche sugli interventi educativi saranno 29, suddivise, ho fatto un po' una piccola indagine, in questi settori minori, young people, 7 presentazioni, due nel campo delle disabilità, 13 nel campo delle metodologie di intervento, quindi trasversali a tutti i settori e altre 7 in promozione della salute, in health promotion. In quali ambiti? In ambito ospedaliero, in ambito di alcolismo, prostituzione, migrazioni, minori e salute mentale. Abbiamo partecipazioni di alcuni Paesi europei e la cosa che mi preme dire, a conclusione un po' di questa introduzione, è che con questo convegno di oggi stiamo legittimando una comunità scientifica, perché se l'anno scorso ci siamo incontrati per capire dove eravamo, quest'anno molti autori dello scorso anno hanno presentato ulteriori lavori e nel frattempo molti autori hanno dato disponibilità a fungere da revisori anonimi, da peer reviewer, per i lavori dei colleghi. E quindi in quest'anno abbiamo cominciato a costruire questo primo panel nazionale, di revisori trapari. Tutto questo oggi andiamo a chiudere una prima fase, perché si comincia a creare una forma di fidelizzazione sostanzialmente a un progetto che è quello della ricerca in Italia in educazione professionale, cioè esperti che non si fermano a fare ma vogliono darsi un metodo rigoroso di valutazione del lavoro e di valutazione delle attività, perché attraverso questo metodo rigoroso possiamo trovare i punti di forza che vanno promossi, vanno comunicati e i punti di debolezza che ci servono per migliorare evidentemente. Ora abbiamo quest'anno creato un portale, un sito intitolato Explorance in latino, che richiama proprio il messaggio della ricerca. che poi faremo girare e la newsletter che ha cominciato ad arrivare mensilmente alle persone che a noi collegate. Questo è uno spazio, uno spazio aperto a tutti, è uno spazio che ci serve per comunicare, quindi per fare comunicazione rispetto ai nostri risultati e ai nostri problemi, per fare promozione, per far vedere a che punto siamo, chiaramente, per dircelo e speriamo che possa essere, anche se qui naturalmente avremo dei problemi, ma dovremmo cercare di risolverli, potrebbe essere il luogo, il punto di incontro, appunto, per la pubblicazione dal punto di vista scientifico. Vado così a chiudere questo intervento dicendovi, intanto grazie. Per quanto riguarda la comunicazione, sarete importunati da una piccola troupe televisiva, che ha l'incarico di farvi delle brevissime domande spot, proprio sul tema della ricerca. Sul perché siamo qua, qual è il motivo per cui è importante oggi fare ricerca in educazione professionale. Allora, una battuta su questo ci serve, perché poi dopo abbiamo il sito, lo metteremo in online e cominceremo a diffondere proprio anche alla gente comune, ai nostri operatori, ai nostri volontari, questa attenzione al miglioramento continuo delle cose per dare dignità alle persone. Io solo vi butto lì un'ipotesi che quella potrebbe essere, in genere, il nostro significato più profondo del ricercare. Possiamo noi sintonizzare il nostro ricercare con la ricerca che fa la persona umana? Una ricerca inquieta, inconsapevole, scomposta, pulsionale, affannosa, psicofisica, emotiva, cioè inconscia, che fanno tutti. E' una ricerca lucida, consapevole, proceduralizzata, scientifica, umanistica, intellettuale, ovvero conscia. Sappiamo che l'uomo ha cercato da sempre di dare una spiegazione ai fenomeni umani, alla sofferenza e al dolore in particolare, che è proprio il nostro campo. Le antichissime tradizioni ebraico-cristiana, in particolare, con la sua attenzione alla storia dei popoli, ai fatti delle comunità e alle inquietudini, e anche con questa attenzione alla legge, a mettere qualche regola per la vita di comunità, che poi ha portato questa tradizione ebraico-cristiana naturalmente a tutta la parte di esperienze in campo scientifico, letterario, filosofico, politico, economico, artistico, nei giorni nostri. Ma è interessante per noi anche, per esempio, la tradizione induista, che è più centrata su se stessa, sull'essere, sulla consapevolezza di sé. Con questa particolare attenzione al collegamento corpo-mente-spirito, che orienta le scelte, ai valori di tolleranza, di amore, eccetera. Insomma, cosa ci spinge a ricercare? Non so, io penso alla difficoltà che abbiamo di intervenire di fronte al dolore, alla sofferenza delle persone che conosciamo, al malessere e alle solitudini, quindi nei confronti delle periferie urbane ed esistenziali che impattiamo. ci spinge sicuramente anche l'insufficienza della politica italiana, ma ci spinge anche questa potenzialità straordinaria che ha il terzo settore italiano, cioè questa cittadinanza che non smette mai di sperare e che continua con fatica ad organizzarsi per migliorare la società e la salute. dove in questo terzo settore però deve cercare non solo naturalmente di saper fare, ma anche di saper essere e di saper dire meglio quello che fa e perché lo fa. ci spinge a ricercare anche, e avremo anche in particolare un gruppo di ricercatori qui in un workshop, ci spinge la ricerca errante dei nostri utenti, la ricerca errante forse a volte anche di noi stessi, di una relazione umana significativa, di una cura, di una sostanza, la ricerca a volte di una fuga, di essere amati, la ricerca della libertà, dell'autonomia, infine della salute, da parte naturalmente delle persone destinatari e finali di tutto quanto per cui siamo qui oggi. abbiamo cominciato in Italia anche a fare ricerca non solo per, ma anche insieme alle persone che soffrono e questa è la nuova sfida, sarà la futura sfida della ricerca in educazione professionale italiana, almeno mi auguro. Quindi concludo con un ringraziamento perché naturalmente siamo qua e non dobbiamo dare per scontato che lo siamo, a tutti quelli che hanno fatto tanta strada, ai nostri speaker che adesso interverranno subito dopo di me, ai partner istituzionali, in particolare abbiamo detto IEG, ANEP, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di York, Canterbury, Christchurch University, CNCA, Coordinamento Nazionale di Comunità d'Accoglienza, e Jesuit Social Network. spero di non aver dimenticato qualcuno, altrimenti naturalmente un ringraziamento allo staff organizzativo dell'Università di Trento, di questo dipartimento, e anche dell'Ateneo, quindi abbiamo sia dipartimento che personale dell'Ateneo di tutta l'Università di Trento che sta dando una mano, un ringraziamento particolare ai nostri interpreti che stanno cercando di rendere più facile la comunicazione, e naturalmente a tutti gli autori qui presenti. Grazie e buone giornate. Allora, Scusami, forse voglio se lo fai giusto, adesso arrivo. allora un particolare ringraziamento, sono tutti particolari qui ai ringraziamenti, evidentemente, ma Silvia Gerardi aprirà questi interventi di questi esperti. Silvia Gerardi viene dall'Università di Trento, da sociologia, ma ha dei riconoscimenti a livello mondiale, e quindi ci è piaciuto cominciare con una nostra docente dell'Università di Trento, da poco da poco è andata in pensione, quindi contentissima perché libera finalmente di fare quello che vuole, quindi la ringraziamo doppiamente, perché nonostante questa libertà è qui con noi, ecco che ci darà appunto un inquadramento diciamo un po' epistemologico agli interventi della mattina. Grazie Silvia. Buongiorno a tutti, allora Dario Fortin ha chiuso con i ringraziamenti e io apro con i ringraziamenti. Molto sentiti perché appunto nonostante formalmente facciamo parte della stessa Università, in realtà questa è la prima occasione per collaborare e un grazie a tutti gli organizzatori ma poi un grazie particolare a Dario Fortin e ad Antonio Samà che sono andati a ripescarmi e un grazie anche ai partecipanti a questa conferenza perché è un onore essere testimone della nascita di una comunità professionale e le comunità professionali e il sapere pratico delle comunità professionali è stato il mio interesse di ricerca direi da quando a Trento nella facoltà di sociologia abbiamo istituzionalizzato questa unità di ricerca che si chiama Rucola abbiamo voluto dare un nome un pochettino saporito alla cosa e Rucola vuol dire Research Unit Communication Organizational Learning and Aesthetics era il 93 quando l'interesse per l'apprendimento organizzativo ha incominciato a estendersi negli studi organizzativi e noi abbiamo pensato bene di contribuire e Trento devo dire la nostra unità di ricerca è piuttosto conosciuta proprio per l'interesse per le pratiche lavorative e quindi ha contribuito alla riscoperta del concetto di pratica che nuovo sicuramente non è anche un senso comune ma che invece è un concetto che apre a un nuovo è un diverso modo di guardare al sapere e di dare una risposta su che cos'è la conoscenza e come ha luogo la conoscenza quindi c'è stato c'è una rinascita di un interesse per la conoscenza ma la conoscenza pratica come diversa da quella che siamo abituati a pensare come conoscenza e io nel breve tempo che ho a disposizione ma poi magari possiamo nella tavola rotonda andremo a cose anche più più concrete diciamo io vorrei dare un contributo sul da dove viene e perché il sapere pratico e il concetto di pratica è una diciamo riscoperta degli ultimi 15 anni diciamo e quali sono soprattutto le promesse che porta per comunità come le vostre che pensano a come il sapere nella vita quotidiana nella vita professionale è un qualcosa che si fa insieme si fa tutti i giorni e soprattutto non è mai fissato ma è un sapere sempre in divenire e vorrei iniziare questo mio contributo con una citazione è una citazione che a me piace molto l'ho lasciata in inglese perché c'è sempre qualche piccolo problema di traduzione ma dice che il punto principale ciò che è in gioco nell'imparare nell'apprendimento non è l'apprendere una pratica ma il diventare e qua practitioner in italiano suona male diventare un membro competente di una comunità di pratica diventare un practitioner un praticante un professionale possiamo o possiamo dire quindi il il sapere dei professionisti ritorno fra un attimo la cosa che volevo dirvi è che questa citazione sarà il paio di occhiali che propongo per introdurre questo concetto io in questa citazione vedo molte cose non c'è nulla di male a studiare le pratiche lavorative da un punto di vista oggettivo quali sono le attività che fanno sì che un certo numero di attività messe insieme fanno una pratica un intervento formativo un intervento su la salute la promozione della salute una pratica lavorativa fatta di un insieme di attività certo possono essere studiate analizzate rappresentate in modo oggettivo ma non è questo il punto il sapere professionale lo si può descrivere oggettivamente ma quando si studia quando si diventa nel vostro caso educatore professionale nel mio caso un'accademica il sapere è il sapere essere un professionista quindi è un sapere che ha una finalità concreta ma è un sapere che si sposa con l'identità quindi con il sapere essere un accademico piuttosto che è un politico un assessore un un qualsiasi cosa quindi è un sapere che ha a che fare con il con lo sviluppare una un'identità come practitioner ed è proprio questo tipo di sapere quindi un sapere personale un sapere soggettivo un sapere sempre in divenire che è il nodo centrale ed è il motivo principale per cui ci interessiamo allo studio delle pratiche lavorative perché le pratiche lavorative sono il luogo il tempo dove questo sapere pratico viene custodito sviluppato trasmesso contestato negoziato quindi intorno a questo sapere pratico c'è un processo di sviluppo questo è come dire il paio di occhiali che volevo proporvi per questo breve intervento e anche per situare la nascita diciamo negli studi organizzativi di questo concetto ombrello dei practice based studies allora c'è un contributo particolare che viene dalla letteratura sull'apprendimento organizzativo quindi vedete ci collochiamo tutto sommato un 15 anni fa e sono frontiere diciamo anche della ricerca che stanno andando avanti un altro contributo si situa nella nella filosofia nella storia della scienza anche la scienza e quelli i sociologi che studiano la scienza dicono che fare scienza non è altro che fare una serie di attività conoscitive epistemiche situate quindi la scienza non è scoperta ma è un fare un fare professionale in situazioni particolari questo tema poi della riscoperta del sapere pratico si situa in un in un tema più generale più epocale che possiamo dire è un indebolimento della razionalità come ci è stata trasmessa nel novecento e quindi verso una pluralità delle razionalità verso una razionalità che non è assoluta e decontestualizzata ma invece una razionalità situata appunto una razionalità pratica e poi infine non è da dimenticare che ci sono molti motivi anche economici che stanno alla base della valorizzazione del sapere pratico a un certo punto ci si è accorti che la trasmissione come dire spontanea del sapere pratico dal maestro artigiano ai suoi seguaci ma anche dentro nelle comunità professionali beh non era più sufficiente perché questa trasmissione come dire naturale non è più non avviene più secondo gli stessi le stesse modalità la gente cambia lavoro il lavoro cambia contenuti e modalità in maniera talmente rapida che non si può fare affidamento a che questo succeda quindi vi sono anche tutta una serie di motivazioni nelle quali non entro ma molto legate all'economicità di questo sapere pratico che di improvviso diventa un qualcosa che può anche essere scambiato venduto che ha proprio un valore economico quindi c'è un diciamo il contesto in cui si sviluppa questo interesse in contesto in cui si situano i practice based studies vedete ha molte ragioni dietro per riscoprire il concetto di pratica che ripeto non è per niente nuovo perché la filosofia ha secoli di tradizione filosofica sulla pratica la prassi la sociologia anche ma anche la psicologia tante discipline allora ci si può chiedere qual è il motivo per cui un 15 anni fa c'è stata una riscoperta della pratica e soprattutto in studi come gli studi organizzativi gli studi poi anche gli educational gli educationalist sono stati subito interessati da questo e io avevo rappresentato questo motivo della riscoperta con una fuga una fuga l'essere la pratica era ciò che permetteva al nostro Ulisse di scappare da una parte da Scilla e dall'altra da Cariddi e cosa sono Scilla e Cariddi nel nostro nel nostro campo beh sono da una parte una visione in cui la conoscenza è quello che sta qua dentro sono gli schemi mentali ed è una concezione puramente mentalistica del sapere del conoscere e l'altra se volete Scilla se questa è Scilla Cariddi invece è l'idea una visione economicista della conoscenza la visione del knowledge management in cui la conoscenza la impacchettiamo la vendiamo la possiamo trasportare e riapplicare da un'altra parte come se nulla fosse diciamo no? questa è stato anche la base della best practice la prendo da qua la porto di là e ciò che andava funzionava bene per te perché non deve funzionare bene da un'altra parte e purtroppo così non è anzi ci siamo accorti che proprio questo ecco allora come uscire fuori se non vogliamo pensare che non è una merce la conoscenza e non è neanche un qualcosa che sta soltanto dentro nella nostra scatola cranica ecco la pratica e quindi il sapere pratico è stata questa via che ci permette di navigare salvamente fra Scilla e Caridi e ci consente di dire che quindi la pratica le pratiche lavorative sono il luogo in cui c'è una non distinzione fra l'attività del conoscere fra l'attività del lavorare fra l'attività dell'innovare e fra l'attività dell'organizzare vale a dire che mentre noi stiamo lavorando quando stiamo immersi nelle nostre pratiche professionali pratiche lavorative non è che ci fermiamo e adesso sto apprendendo adesso sto organizzando adesso sto innovando no queste sono attività che vengono fatte che fluiscono fluiscono assieme e proprio il sapere pratico ci dice che questi sono processi che sono processi materiali che sono processi discorsivi che sono aperti e che sono poi anche temporalmente situati e quindi conoscere diventa un'attività conoscere un qualcosa che si fa si fa insieme si fa collettivamente quindi lavorare non può essere soltanto un'esecuzione può essere soltanto l'attività del fare ma è un fare sapiente ed è questo quindi il motivo per cui si dice allora la pratica consente una diversa epistemologia un diverso modo del guardare a come si conosce al come si fa conoscenza e quindi la pratica non è soltanto l'oggetto empirico non è l'intervento come si fa un intervento educativo in modo situato in contesti diversi si c'è anche il fare ma soprattutto c'è quel sapere che mi consente il fare e le due cose non sono separate ecco perché dico c'è una frontiera nuova c'è un nuovo modo di guardare al conoscere che non è più il modello il modello della banca il sapere la conoscenza come investimento che cresce perché capitalizziamo sulla conoscenza non è neanche il modello del cibo conosce la conoscenza come cibo che viene dato ingerito elaborato e lascia i puntini sul cosa avviene dopo allora studiare il lavorare e l'organizzare come un sapere pratico come un sapere situato ci consente di fare delle domande diverse quindi di passare da una problematica del come fanno i professionisti ad applicare gli schemi cognitivi appropriati alla situazione specifica a dirci nelle situazioni lavorative nelle pratiche lavorative come fanno i professionisti a utilizzare le circostanze l'ambiente intorno per portare avanti attività intelligenti quindi che cos'è che noi facciamo per poter portare avanti le pratiche perché non è che basta prescrivere il lavoro per ottenere il lavoro fatto la pratica lavorativa è proprio tutto ciò che ci sta in mezzo fra una parte quello che devo fare dall'altra come lo faccio quando quotidianamente sappiamo benissimo tutti perdonatemi gli accidenti che succedono mentre si sta lavorando allora la pratica il sapere pratico è proprio come far fronte a tutta la variabilità che ci consente di sapere come arrivare a quel risultato quindi è in questo spazio che è lo spazio dell'interrogazione che è lo spazio del del sapere pratico ecco quindi è che allora in questo modo di riformulare la conoscenza non come un oggetto ma come un'attività che possiamo dire e ancora qui l'ho lasciato in inglese che la conoscenza pratica è un collective knowledgeable doing quindi è un fare insieme ma è un fare sapiente e che viene fatto collettivamente viene fatto senza molta consapevolezza di che cosa si fa per quello che lavorare e sapere e produrre sapere avviene nello stesso momento avviene con scarsa consapevolezza e che questo sapere è un patrimonio sviluppato collettivamente e conservato dentro nelle pratiche lavorative secondo punto dice ma queste pratiche lavorative sono un'ingegneria dell'eterogenio questa è una bella espressione che ho voluto tenere perché per svolgere una pratica lavorativa abbiamo bisogno di mettere insieme tanti elementi di natura diversa quindi non sono gli attori umani che fanno le pratiche ma pensate alla pratica del organizzare una conferenza organizzare una conferenza fa parte del nostro sapere accademico della nostra pratica accademica organizzare una conferenza significa che oggi 30 gennaio portiamo insieme in un'aula perché se non avessimo un'aula con la neve fuori saremmo nei guai ma vuol dire portare insieme le persone con i loro interessi vuol dire portare i relatori a un certo punto avere una divisione del lavoro sapere chi parla per primo chi parla chi parla per secondo quindi una pratica vuol dire che tutti questi elementi devono essere portati insieme legati insieme e devono stare insieme devono essere risolte tutte le variabilità che possono succedere i treni che non arrivano un'aula che è stata prenotata due volte dalle stesse persone tutte queste cose molto banali ma vedete che la pratica lavorativa organizzare un seminario è molto più complessa che non la possiamo descrivere con un'aula dei tempi determinati delle persone è morta là ma sarebbe una descrizione molto povera il sapere pratico è come far sì che tutte queste cose siano insieme nello stesso tempo e stiano legate quindi vedete che abbiamo elementi umani sicuramente ma non bastano gli elementi umani quelli materiali quelli duri diciamo sono altrettanto importanti e la cosa importante è che tutte queste cose qua i discorsi la comunicazione l'informazione i volantini stiano come dire attaccati insieme ci sia questo sapere pratico che fa la colla di tutte queste elementi e di tutte queste attività questo è il sapere il sapere pratico allora brevemente quali sono le caratteristiche del sapere pratico vedete anche sapere pratico io l'ho lasciato un po' in inglese perché knowing in practice intanto c'è il senso che il knowing è un'attività quindi è più è più situato è più da più il senso del fare e poi nelle pratiche quindi per un sapere pratico c'è un orientamento c'è un orientamento a produrre un seminario una conferenza una decisione a produrre un risultato quindi è un sapere che è finalizzato ma dove questa finalità cresce con il momento in cui la stiamo esplicitando occorre una temporalità specifica perché questa conferenza sarà diversa da tutte le altre diversa da quella dell'anno scorso quindi è un sapere sempre situato c'è bisogno di un ancoraggio nella materialità se in questo momento il servizio dei microfoni decide che non ne vuol più sapere di stare allineato e incollato con noi vedrete che avremo delle difficoltà a rimetterlo al suo posto e noi al posto con questo quindi c'è un ancoraggio nella materialità che fa sì che i pezzetti e i bocconi di conoscenza siano incastonati che questo mondo materiale collaborino con noi così come noi collaboriamo e ci serviamo quindi è più un lavorare insieme fra umani e non umani che un servirsi di oggetti e altra cosa che molto del nostro lavorare è fatto con le parole e non uso comunicazione che sembra una cosa così ma sono pratiche discorsive per lavorare usiamo la parola e usiamo parole che stanno dentro delle pratiche lo sapete voi meglio di me perché gran parte del vostro lavoro sono pratiche discorsive situate e via dicendo e adesso voglio offrirvi una immagine di che cos'è una metafora del come avviene come si sviluppa nel tempo una pratica lavorativa prendevo l'esempio del seminario qua vi voglio portare un'altra citazione e vedere la pratica lavorativa come una arrampicata siamo in Trentino commentava Dario ma forse magari molti di voi arrampicano noi ci possiamo chiedere se una pratica lavorativa è qualcosa che avviene nel tempo insieme a degli oggetti quali sono gli appigli che fanno sì che la nostra conferenza vada a buon fine dall'oggi che abbiamo aperto a domani che si chiuderà quali sono questi appigli ma poi soprattutto dove stanno gli appigli stanno nella roccia gli appigli stanno nelle mani che trova la roccia ed ecco e qua vi vi leggo la seconda metafora quindi il praticare il knowing in practice quindi questa sapienza che porta la pratica a compimento come avviene e qua è un autore francese Antoine Hignon che scrive ciò che l'arrampicare ci fa vedere non è che la roccia è una costruzione sociale ma che essa è una riserva di differenze che possono essere attualizzate l'arrampicatore l'arrampicatrice fa la roccia tanto quanto la roccia fa l'arrampicatore e l'arrampicatrice le differenze stanno veramente nella roccia per cui la materialità è importante non è che ci inventiamo gli appigli se le nostre ditina non toccano la materialità quindi le differenze stanno veramente nella roccia e non nello sguardo che si posa su di essa tuttavia queste differenze non avrebbero esistenza in assenza dell'attività dell'arrampicare che le rende presenti entro un processo di coformazione le differenze emergono si moltiplicano e vengono proiettate l'oggetto non è una massa amorfa ed immobile contro la quale i nostri obiettivi vengono gettati essa esso è uno sviluppo una risposta una riserva infinita di differenze che può essere percepita e portata alla luce a me piace molto questa metafora dell'arrampicare perché vuol dire che mentre si svolge una pratica lavorativa non basta quello che abbiamo studiato a scuola non bastano le attività ma è come quando si sale sulla roccia che gli appigli li dobbiamo trovare e gli appigli sono nella roccia nelle mani nel fatto che un appiglio per me può essere un non appiglio per qualcun altro quindi l'appiglio si realizza si attualizza come appiglio nella mano che lo prende e ci si sa appigliare allora se questa è la metafora vediamo che cosa ci dice della relazione di coformazione fra la sociomaterialità e l'identità io sono un arrampicatore non perché ho studiato un libro su come si arrampica o perché so tutte le attività o so che una mano deve seguire l'altra un piede e l'altro ma bensì perché partecipo a una comunità di arrampicatori so usare il linguaggio dell'arrampicata posso parlare con gli altri e soprattutto mi vedono arrampicare se no posso essere un lettore di libri sulle arrampicate posso guardare gli altri che arrampicano allora questo portato come dire fuori di metafora ci fa dire quali sono gli appigli della pratica dove i professionisti nel portare a termine le loro pratiche lavorative dove sono questi appigli vado vado un attimino veloce scusatemi ma ho paura di sforare il mio tempo allora gli appigli della pratica e del praticare stanno nel corpo che purtroppo ci dimentichiamo che senza un corpo se parliamo della materialità non bastano queste materialità ma abbiamo un corpo abbiamo corpi diversi abbiamo corpi diversi per genere abbiamo corpi diversamente abili abbiamo corpi diversi quindi nel corpo ci sta anche la conoscenza sensibile io io so la conoscenza sensibile è quella che mi viene dal dal piacere di stare in una bella sala ma la mia visione professionale è anche vedere quindi io conosco attraverso il corpo questo purtroppo viene dimenticato ma la prima base dell'essere professionisti è sviluppare una visione professionale un orecchio professionale pensate in cucina i cuochi un naso professionale un gusto professionale tutte queste questa è la conoscenza sensibile è il primo appiglio per arrampicare il nostro corpo per tutte le pratiche lavorative il secondo appiglio è l'ambiente materiale la roccia che è una roccia equipaggiata se altri vanno a arrampicare dopo di me faccio le palestre lascio lascio i chiodi quindi le tecnologie ma anche i post-it quando da un da un turno lasciamo al turno che viene dopo e appiccichiamo i post-it con con l'altro appiglio è il linguaggio il linguaggio professionale lo sviluppo di un linguaggio professionale ma sono le pratiche discorsive altra cosa da non dimenticare l'altro appiglio è l'infrastruttura normativa le regole gli accordi gli abitudini noi una pratica lavorativa la svolgiamo la portiamo a termine in un ambiente attrezzato un ambiente equipaggiato così come la palestra di roccia noi lasciamo le lasciamo i ganci per quelli che arrampicheranno dopo di noi per un'altra volta il nostro tavolo di lavoro è un ambiente attrezzato perché allunghiamo la mano e sappiamo che cosa c'è il mio è particolarmente disordinato ma se lascio il disordine ritrovo le cose se metto a posto non trovo più più nulla io mi fermerei qua perché concludo dicendo che quello che ho desiderato farvi vedere è che il conoscere è un'attività è un'attività situata che quindi l'agire come professionista competente essere practitioner significa saper attivare e connettersi a tutto un campo di pratiche le mie ma anche quelle degli altri e che queste connessioni vengono attivate nella conoscenza pratica che sono relazioni organizzative che acquisiscono poi durevolezza e autorevolezza nel momento in cui vengono poste in essere e quindi è con questo che vorrei ringraziarvi ringrazio le persone che stanno traducendo e mi scuso perché ho parlato un po' velocemente e quindi penso di avervi fatto lavorare un po' di corsa grazie grazie davvero Silvia per tante cose non voglio commentare adesso andiamo avanti perché poi è previsto che dopo gli interventi che avete visto cerchiamo di non fare proprio interventi troppo lunghi perché poi dopo l'idea è di fare una tavola rotonda dove diciamo gli speaker si fanno delle domande ricevono delle domande anche dalla platea quindi una cosa un po' più movimentata quindi andremo avanti poi successivamente però una cosa che volevo dirvi ringraziamento a Silvia è questo ha scelto di usare un linguaggio credo nel quale ci siamo tutti riconosciuti ma volevo così dirvi che si tratta di scienza Silvia Gherardi sta cominciando a collezionare lauree a onoris causa mi sembra che siano dentro alle dita di una mano ma il pericolo è che aumentino sempre di più quindi io a me risulta Scozia Danimarca e Finlandia tra le migliori università di questi stati hanno già attribuito una laurea onoris causa per il lavoro di ricerca a Silvia Gherardi quindi davvero grazie ora ho il piacere di presentarvi Giuliette Koprovska che prende posto credo in piedi giusto? sì Giuliette Koprovska viene dall'università di York Inghilterra capo del settore del social work all'interno del department of social policy and social work all'università di York e è interessante il suo contributo perché va comincia a entrare dentro quelle che Silvia Gherardi potrebbe dire chiamare appigli è uno degli appigli importanti cruciali è la competenza comunicativa e Giuliette ha pubblicato le sue ricerche già credo in già due edizioni del volume quattro edizioni ecco quindi siamo già a quattro di un volume che rendi conta i risultati e quindi oggi cercherà 10 minuti un quarto d'ora non so come ma cercherà di portarci gli esiti di questo suo lavoro con gli studenti universitari in social work e quindi i nostri fratelli diciamo inglesi grazie Giuliette prima voglio ringraziare tutti di voi e soprattutto Dario Fortin per l'invito in Italia che sono privilegiata di stare qui parlo in inglese perché parlo meglio in inglese e ti vi promesso migliorata tantissimo il suo italiano veramente incredibile la velocità di apprendimento di Giuliette dell'italiano molto meglio del mio inglese ok so oh that's interesting ok I don't realize it would do this ok as as Dario explained I teach at the University of York and for a very long time we have had a course for teaching people about communication and this follows nicely I think from Sylvia's talk because I undertook a small research project and really what it demonstrates is how very difficult it is to research and understand how people learn to communicate better in the context of social work because it's inherently complex and measuring things that are complex is actually very difficult We've taught this course for a long time and we developed a particular model both for teaching and for giving feedback in the 1990s which was influenced particularly by systems theory and by the idea that people close to differences and open to similarities and so as a consequence of that when the students undertake practice together in communication we encourage them to choose the areas that they want to have other people's opinions about and other people's observations about because if you give people too much information that's not related to their particular preoccupations then they can't take it in so in that sense we use systems theory but we also think about it from an attachment perspective and the need for a certain amount of security when people are learning new things that when we're anxious and are unsure of ourselves then it's very difficult to learn we become much more concerned with how we're feeling and we can't take in information we are quite lucky to have reasonably good facilities and over the time I've been teaching we've had developments from enormous cameras with lights which were very hot and we had to tell the students to wear layers of clothing because they would have to take them off and now we're at the stage where we have these almost invisible cameras about the size of a telephone so things have changed over time to to create conditions in which people can learn one of the things we do is explain how the whole project is going to happen the students work in small groups together and that means that they can get to know each other but also they establish a sort of baseline for themselves where have they come from what do they already know about this have they had any training what's their experience because we're very aware that every student whether they're 18 or 50 they bring with them a life experience of being in a family of being with friends of being with in school of often with great sympathy for troubled people so they already bring with them a lot of understanding of how to relate to people so they can talk about where they come from but also that we explain how they're going to be doing things we have a system where there's a lecture on a subject which happens before the time that they actually try and put some of those skills into practice and we used to do a lecture say at 10 o'clock in the morning and then at 11 o'clock they went straight into practice we found it's much better if they have a day or two days to digest what they're learning rather than to try and do something immediately so it can go into their system a bit more and through the duration of this course they get formative feedback all the time not only from each other but from the members of staff that they work with which as I say is fitted as far as possible to where they want to learn but also where we can say actually it's really important to do something that you completely forgot to do so mostly they work in small groups not always sometimes when our resources are not so good we have groups of 10 it doesn't work so well in groups of 10 they don't have enough time to practice they don't have the security of knowing each other very small groups are also a little bit vulnerable and fragile if people get ill and there are only two people then it feels difficult so trying to get the balance right is a little means that they can get to know each other well in an ideal world they would always be in the same room at the same time and again this is really to do with the fact that when you know where you're going and you know when you're going there you don't have to think about that anymore it becomes automatic and this course takes place during the first term that students have are unfamiliar with the campus they're unfamiliar with each other they're living usually away from the people that they know and trust they get lost they get stressed sometimes because it's an English setting they drink too much and they don't know what they're doing so to try and create a situation where some of it is predictable and reliable and they know where they're meant to be makes it a lot easier for them and then their dynamic energy is more available for them to learn and also each group is allocated to the same teacher so we have we run a couple of groups each but we decide what goes into the curriculum so it's not something that they develop with us and that raises certain kinds of questions really but we decide about the content and the staff who used to teach on it with me I now lead on it we do have a very strong belief and a kind of passion that it is worthwhile to teach students in the university before they go into practice in the UK social work students spend 170 days in practice placements during their degree so it's a lot of time in practice at the moment we have two placements the first is 70 days this course constitutes part of a requirement in social work education which is to demonstrate that they are ready to go into their first placement readiness for practice which is why we now have an assessment for it whereas many years ago we didn't I think we have always thought it was really important because otherwise they go out into their practice placement and as one of them put it many years ago being unleashed on an unsuspecting public without us really having any knowledge of how they might operate in that so we believe it's important we assess it which gives us some notion of whether they have learned anything they have to write a critical analysis after doing an interview which is video recorded and they now do those with members of our service user group we have a group of social services clients who work with us in the university this is again a requirement of social work education in the UK so we have quite a stable group of people from a variety of different people with physical disabilities people with serious mental health problems people who have been the carers of say someone with Alzheimer's and they volunteer to be interviewed usually about their own story but about their own story maybe two three years ago so that they themselves are in a good place to be responsive but not to be upset if somebody is a bit clumsy with them so that's the assessment process but the question really is does doing any of this make any difference is it actually worth doing or would they be better simply going out into practice and learning it for real because one of the questions the students often have is well this isn't real we're learning here with each other we're learning in a laboratory we're not actually doing it this is my so this is why I tried to do an evaluation this was the kind of way of thinking about it comes from the work of John Carpenter who's based it on other typologies of learning and of evaluation and looking at outcomes so one of the things that's very easy to measure these get increasingly difficult to measure is it's very easy to measure whether students have had a good time so you can say to them did you like it do you think it was worth it and they'll tell you that's not a problem it's much more difficult as we go up the scale so does it actually change how people think about the work they're doing does it change how they think about themselves does it change their attitudes their pre pre existing assumptions about people their prejudices for this project I asked students to write reflective diaries so that that might chart some of that progress then the third one 2b is do they actually acquire any knowledge or skills now that one it's not so difficult to assess whether they know things or can do things it is difficult to know that they learnt it on this particular course maybe they could do it anyway maybe it was some other epiphany that they had in some other context that actually made the difference so that's why I'm very cautious about presenting this as definitely this is a good way to do it because I don't think I know yet although I still I have the belief it is so I resist the idea that it's not a good idea the way that we tried to test the knowledge and skills is partly through the assessment but also when they interview this client then they write immediately they complete a form immediately saying how they think they performed on a number of different aspects did they feel they understood the person emotionally they feel they understood what the issue the problem was did they think the person felt better worse or the same after they had been with them did they think the person would want to see them again and did they think that they were appropriately nonjudgmental towards the person and the person they interview fills in a parallel evaluation answering those questions and they don't always match typically the students value themselves less than the client does and occasionally students value themselves very highly and the client says don't think so so they're quite interesting when they don't match does this actually change their behaviour for my project I persuaded a disappointingly small number of students to do a pre-test so before they did the course we recorded them interviewing somebody then for assessment at the end of the course they did another interview and then nine months down the line after they had been on placement they did another interview so there were three points at which we could look at how they were actually behaving changes 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 in organisational practice is the next potential outcome of an educational intervention that's something that we couldn't and wouldn't have attempted really to measure doing a fairly short course with our students is not likely to have a big impact when they go out into practice where they have a very beginning position of power in an organisation so I don't think we could expect that but in the end our educational systems should be influencing organisational practice and finally are there actually benefits to the people that they work with do they do a better job with those people and we asked them to collect questionnaires anonymously from the people that they worked with so they could give them the questionnaire and the questionnaire could be returned to us without the student ever seeing it because what we find is it's again a requirement in the UK that we need to get some feedback from the clients that our students work with and usually they are very very positive now that may be that our students do well with them and we know that students often have a fresher attitude they have more time they're very enthusiastic they people so it may be that it's completely genuine but we also know that clients sometimes say well I don't want to spoil her she's got a degree I don't want to say anything that might get in the way so we're not 100% sure that they're always completely honest so this gave them an opportunity to say what they really felt so I chose a multiple measure design which really I've described through looking at those different processes and these as I said were first year students so these were the things that I did I did a self efficacy scale now I haven't mentioned that self efficacy which comes from the work of Bandura and has also been developed quite a lot by Gary Holden is the idea that when you feel confident and capable about doing things then that fits fairly well with your competence and your ability to do things I have reservations about whether that's true having encountered people who are basically they have a very big ego and they think they're a wonderful person but it doesn't seem to fit with what they actually do and also there are quite a lot of people who are quite diffident and self deprecating who are very good at what they do so I've got reservations about it but at least it gives you a sort of way of measuring how people see themselves at point A and at point B and at point C so you can look at change in that process and the other things I think we've looked at so what did I find well I've only I've got two student examples yeah that's not too bad I think I wanted the chart to be a bit clearer but I think it's just about clear enough so what we've got here is the self efficacy ratings the self evaluation so self efficacy is let me just see if I can get this self efficacy is that one so they've not changed that much this one is their assessment so time one to time two they were much better after placement not quite so good then this one is their self evaluation so it's not an overall self efficacy it's I did this interview with somebody how well do I think I managed that particular interview so this one has gone down valued themselves very I think they did very well initially gave themselves a very poor evaluation and then after placement a much better one and then the service users evaluation is very stable it was just slightly better at the end so not much change there so that's with one student then with the second we've got a different pattern so here we've got self efficacy not so good better exactly the same then their assessment was much better at this point and much much worse after placement which is interesting and actually I can tell you why with this particular student in a moment the self evaluation is very stable and the service users evaluation reflects more the assessment better at the beginning got worse as time went on now if I can find out how to go back there's that one this particular student and I'm embarrassed to say these are the only two who completed absolutely every element and that's why I've only got two to show you so that's also why I can't claim very much from this but it was an interesting project this student at this point was quite depressed and was wondering whether to do social work whether to carry on and there were all sorts of things going on so that particular self assessment and self sense of self efficacy had dropped and I think that one of the things we learned from this was that the mood that somebody is in the phase that they're in may influence their own judgments about themselves in a way that isn't very objective because actually she was very good and when she recovered from being depressed she became very capable passed her course did very well and is now has moved out of practice into academia and is wonderful so the other person had gone this was a man had gone on a placement which was very very how can I put it he worked in a place where they had to follow certain kinds of procedures all the time with people and they were really quite authoritarian and so he had learnt how to ask particular kinds of questions tell people they ought to do particular sorts of things so from our point of view when he was assessed he was much worse from his point of view he had really got the hang of it he knew how to do this really well the service user didn't like it so again there's this gap sometimes between what we think of as an ideal way of being with people and trying to help people to do the things that others here this morning have talked about to actually grow as a human being and to extend the range of understanding that they have of people and know themselves better all of those things were probably a disadvantage for him in that context because they would have created cognitive dissonance with what he was expected to do so he became very good at doing those things and not very good at any of the things that we valued so the conclusions we've got really are that students might and this is actually something I've not said that students may lose confidence and this is partly the idea that when you don't know what you're meant to be doing you can feel quite good about what you know when you realize it's a lot more complicated and difficult and demanding than you thought then your self evaluation can go down and that that's healthy because you're realizing that there's more to it than you imagined so again self efficacy scales may show that but it may look as though the student is less competent when probably they're just going through a process of developing their understanding the effect of students going on these placements is hard to disentangle from the course that we run if they're day to day for 70 days with other people practicing in all sorts of different ways that's going to have a very powerful influence on them much more than a fairly short intervention at university we know that we don't get as much feedback about students as we'd like and I think that overall on placement that would be helpful and we really still I don't think know an awful lot about whether what you do in the university really transfers out I don't think it's that it doesn't but I just maintain that it's difficult to know exactly what it is so I think part of it is having some kind of leap of faith that's based at least in part on the whole way that you teach as a being and I think there's quite interesting work about the way that teachers model the way of being with their students that they want their students to learn as a way of being with their clients and so I think the process of this kind of teaching and relationship with students and enabling them to learn how to give and receive feedback to each other how to understand their own motivation how to talk about things honestly how to make mistakes I think all of those kinds of contextual things that aren't exactly what we're measuring or assessing are nonetheless enormously valuable in the process of their development in the way that you were talking about developing really as a person so I just wanted a sort of what next and the current research that I'm doing is entirely different I'm collecting recordings of qualified social workers in two kinds of contexts one is when they're visiting families where there are concerns about child protection about their parenting and the safety of their children and the other is what in the UK we call initial child protection case conferences where professionals and the family all meet together to decide on whether a child should be removed whether the family should have more support whether the child should be put on a child protection plan which indicates that there are serious concerns but that things will be put in place to help that family improve the conditions for their children and what I'm collecting the recordings for is to be able to do a detailed analysis of how communication in these very delicate intimate challenging face threatening situations how that is actually conducted and what we can learn from that to connect back to how social workers are taught and can we use that knowledge in a different way to show students something about what happens in practice and how to behave how to conduct themselves and how to be with people and then to see whether that kind of training model might be something that we could evaluate in a different way and that's it okay grazie grazie molto Juliet allora essendomi consultato con esperti conferenzieri qui davanti il consiglio di fare dieci minuti di break così poi facciamo gli altri due interventi e il dibattito ok bene dieci minuti quarto d'ora massimo va bene così io lo conosco grazie grazie grazie